eccoci adesso pronti con una nuova puntata invece di fast finance l'economia e la finanza spiegate in modo molto semplice noi diciamo anche in una manciata di minuti ma in realtà di minuti ce ne prendiamo un po di più perché sono temi che affrontiamo tutti i giorni ma cerchiamo anche di entrare un po più nel dettaglio e di utilizzare parole che possano arrivare a tutti questa è un po la missione che ci poniamo qui alle fonti tv soprattutto con questo format il titolo lo leggete già in sovrimpressione l'inflazione sale e risparmi perdono di valore come difendersi e questo è un po il dilemma del momento peraltro noi siamo anche un popolo di risparmiatori però è chiaro che quando i prezzi continuano a salire soprattutto i prezzi legati ai beni di prima necessità beh dobbiamo attingere i nostri risparmi spesso molti devono attingere i propri risparmi allora come fare per evitare di che i nostri risparmi intanto vadano esauriti e che perdano anche valore cerchiamo di capirlo e cercheremo di capirlo con alessandro cascavilla influencer che ritrovo molto molto volentieri anche perché alessandro mi devi raccontare stai facendo tantissime cose in questo momento ti seguiamo sui social e appunto sarà con noi per parlarci di questo ciao ciao noela grazie per ti invito insomma stai terminando il tuo master sei sei sempre più attivo nelle lezioni di economia insomma raccontaci un po come sta procedendo il tuo lavoro per divulgare l'economia perché di questo si tratta esatto in realtà sto terminando il dottorato il dottorato perdona che si non il master ho usato una parola non corretta dottorato sì assolutamente quindi sono diciamo in procinto di scrivere e terminare la tesi nei prossimi mesi nel frattempo chiaramente è un periodo economico abbastanza particolare quindi chiaramente sono tanti temi di cui parlare ogni giorno e tante persone cominciano a informarsi anche riguardo temi che li toccano appunto dal punto di vista personale come può essere il tema dell'inflazione quindi dicevo tanti messaggi di ragazzi persone che mi seguono che mi chiedono ok la situazione economica è questa ma io concretamente cosa posso fare per diciamo per coprirmi eventuali rischi eccetera quindi da un lato sto continuando con la mia carriera accademica anche sono esattamente all'inizio potenzialmente di questa carriera e dall'altro continuo con il mio lavoro di divulgazione che chiaramente faccio quotidianamente ormai da diversi anni esatto sarebbe da dire lo diciamo con un sorriso anche se il periodo sicuramente molto complicato alessandro che almeno ho notato dalle prime parole che c'hai che che ci hai detto che l'interesse no per l'economia aumentato o sta comunque aumentando perché purtroppo è questa parola la sottolineiamo sta toccando tutti noi i nostri portafogli e quindi come dire viene automatico dire e no qualcosa devo pur fare insomma diciamo che a causa di situazioni negative l'economia non è più vista come qualcosa di distante o solo per esperti esattamente il punto che in italia chiaramente il livello di alfabetizzazione economica e finanziaria non è un livello abbastanza diciamo abbastanza alto quindi chiaramente l'interesse verso una materia in particolare l'economia aumenta sempre durante periodi sfortunatamente di diciamo di problemi economici è aumentato durante la pandemia perché chiaramente c'erano appunto tantissime tensioni economiche sta aumentando adesso per via delle altre altri tipi di tensioni dal lato dell'offerta inflazione i rendimenti che stanno subendo grandi variazioni eccetera quindi chiaramente da un lato è buono perché più persone cominciano ad informarsi e a rendersi conto che le proprie scelte hanno un impatto reale sulla propria vita in termini finanziari che però hanno chiaramente un impatto tutto il resto della propria vita e quindi è un'occasione insomma da non perdere quindi a parità di lati negativi cerchiamo di non perdere la possibilità di avvicinarci davvero all'economia quindi cercando di capire come scegliere al meglio per il nostro diciamo il nostro futuro finanziario quindi come cominciare a pianificare una propria strategia di investimento di risparmio eccetera che è una cosa che a quanto pare anche i giovani molto giovani stanno cominciando a fare quindi di questo in realtà sono abbastanza sono abbastanza contento allora le sanno sicuramente a proposito di lessico finanziare una delle parole che ormai sono chiare a tutti è quella di inflazione allora partiamo da qui perché in realtà l'aumento dell'inflazione e di conseguenza anche la prospettiva di una serie di aumenti dei tassi di interesse da parte delle banche centrali hanno turbato un po gli investitori no stanno turbando un po tutti ecco anche se poi il mercato continua ad andare un po per la sua strada però chiaramente le preoccupazioni si vedono più nell'economia di tutti i giorni nella street economy quella che riguarda come dicevamo in apertura tutti noi allora e naturalmente la mettiamo in relazione anche ai nostri risparmi perché lo dicevo lo dicevo poco fa cioè quando purtroppo i prezzi aumentano soprattutto quelli di prima necessità quindi non è che possiamo scegliere mangiare dobbiamo mangiare per esempio no e quindi non è che possiamo decidere se andare a fare una vacanza o meno anche se è brutto lo stesso però possiamo anche fare questa scelta e allora spesso bisogna attingere ai risparmi allora come proteggersi ti faccio una domanda che è un po un falso mito partiamo da qui e poi lascio a te la parola è vero o no lascio a te la risposta che appunto lasciare i soldi sempre solo sul conto corrente il che ci garantisce ovviamente liquidità quindi ci fa stare magari più tranquilli mentalmente ma è controproducente perché nei periodi di inflazione appunto perdiamo un sacco di soldi e quindi di conseguenza bisogna cominciare soprattutto in tempi non sospetti a dei piccoli investimenti compatibilmente con quello che abbiamo a disposizione partiamo da qui esattamente questo sembra essere un luogo comune che purtroppo a differenza dei classi luoghi comuni è molto vero nel senso che purtroppo il valore dei risparmi viene eroso esattamente del valore dell'inflazione chiaramente se lasciamo i soldi su un conto corrente che paga un tasso di interesse pari a zero o comunque una somma non significativamente diversa da zero chiaramente con un'inflazione crescente possiamo comprare sempre meno bene servizi e quindi chiaramente il valore del nostro denaro diminuisce quindi non è detto che chiaramente avere soldi con tanti liquidi insomma appunto liquidi disponibili a brevissimo termine sia sempre un problema anzi anche in tempo di inflazione non è sbagliato avere una buona quantità di soldi liquidi in particolare disponibilità liquide devono essere profunzionali ad entrare nel mercato investire in momenti in cui pensiamo sia giusto intervenire soprattutto perché in periodi come questo insomma in cui sono tante tensioni finanziarie attuali e comunque attese anche per il futuro ci saranno grandi correzioni già ci sono anche nei mercati azionari riguardo tanti titoli quindi da un lato l'obiettivo sarebbe sempre quello di mantenere disponibili in maniera liquida solo delle somme che sono effettivamente necessari diciamo un cuscinetto per appunto di salvataggio fondamentalmente quindi per gli imprevisti il resto ciò che possiamo permetterci di investire soprattutto in tempi di inflazione conviene risparmiarlo e depositarlo in insomma investirlo in qualche tipo di asset che possa essere mercato azionario obbligazionario ci sono tantissimi tipi di appunto di asset in cui si può investire anche per coprirsi l'inflazione quindi sono fatti apposta per coprire l'inflazione però appunto ripeto non è sempre detto che mantenere soldi liquidi sia sia sbagliato mantenerli tutti liquidi è sicuramente sbagliato soprattutto in periodi di inflazione mantenerne un po liquidi è un'altra parte disponibile ad essere investita nel momento in cui pensiamo se il momento giusto entra nel mercato può essere comunque un'ottima strategia in periodi come questo dove appunto ripeto ci possono essere grandi correzioni nel mercato con i grandi storni del valore anche perché c'è grande incertezza dal punto di vista dei tassi interesse quindi tutti più o meno si aspettano un aumento dei tassi interesse questo comporterà quasi necessariamente una correzione del diciamo della capitalizzazione di tante imprese nel mercato azionale certo perché poi altra domanda barra riflessione alessandro c'è proprio un po sempre il timore che allora a parte che si pensa che appunto l'investimento sia legato a delle somme di denaro importanti invece no cioè è ovvio che bisogna valutare prima quanto possiamo permetterci di investire perché è chiaro che la liquidità serve per l'emergenza non è che possiamo investire tutto quanto per poi trovarci bloccati e non avere appunto liquidità però comunque possiamo valutare quanto possiamo investire oltre a questa questo altro preconcetto mi verrebbe da dire c'è proprio però anche un timore che è comprensibile c'è il fatto di dire sì va bene però se io investo una parte dei miei soldi quindi vado a togliere liquidità poi dopo non posso disinvestirli se li disinvesto magari perdo dei soldi ecco anche questo è relativo perché dipende appunto dalla scelta che si fanno come investimento assolutamente sì attualmente in realtà la finanza è sempre stata vista come una materia davvero per pochi e appunto come dicevi tu i limiti agli investimenti sono parecchi limiti agli investimenti una chiaramente legato alla scarsa educazione finanziaria che ci può essere in un paese come l'italia l'altro è legato appunto al mondo del diciamo dei falsi miti legati alla finanza scusami ad esempio come dicevi tu molto spesso si pensa che per investire bisogna avere dei capitali grandi perché altrimenti non ha senso farlo in realtà non è non è esattamente così perché chiaramente si può cominciare a investire sin da subito con dei piani di risparmio quindi depositando anche delle somme molto piccole appunto depositate e mantenute lì costante nel tempo che possono assolutamente aumentare di valore grazie al tasso di interesse composto eccetera quindi non è assolutamente vero che per investire bisogna avere delle grandissime somme di denaro insomma a disposizione più o meno tutti possiamo investire e soprattutto grazie alle nuove tecnologie alle innovazioni nel settore del fintech eccetera i limiti legati all'accesso ai mercati finanziari stanno diminuendo in maniera drastica nel senso che attualmente ci sono è veramente facile poter comprare sia direttamente ai titoli ma anche ad esempio non so dei dei derivati che possono replicare l'andamento di un di un titolo quindi si può investire e disinvestire in qualsiasi momento in realtà quindi il rischio di avere dei soldi investiti e non poterli riprendere che appunto è chiaramente una preoccupazione che affligge tante persone in realtà non è poi così vera perché ci sono tanti modi per investire in attività che possono essere più o meno liquidabili nel brevissimo termine quindi anche su questo diciamo in questo periodo io anche mi sto sforzando anche sul mio sui miei canali a fare un po più divulgazione finanziaria in questo senso per far capire effettivamente che l'accesso ai mercati finanziari al mondo degli investimenti non deve più essere visto come una cosa per pochi ma come una cosa che ci tocca diciamo in maniera personale quindi bisogna cominciare a pensare effettivamente a come a come gestire insomma come potenzialmente cominciare a risparmiare di investire anche con piccole somme sia da giovani anche. Ah sì certo assolutamente sì anche se proprio in questi giorni leggevo Alessandro che rispondendo per esempio alla classica domanda se i soldi fanno la felicità paradossalmente è emerso che hanno risposto maggiormente sì più giovani le categorie più giovani però in parallelo appunto proprio perché pensano questo hanno questa questa impostazione mentale sono più propensi a pensare agli investimenti a te risulta perché invece sai si pensa sempre che siano le persone più adulte no a valutare eventuali investimenti è così visto che peraltro tu ti rivolge a un pubblico molto giovane. Allora in realtà ci sono parecchi studi diciamo scientifici che dimostrano come le nuove generazioni millennials e generazioni Z sono più propensi ad investire soprattutto grazie appunto come dicevo prima alle innovazioni nel settore fintech ma anche ai nuovi tipi di asset pensiamo ad esempio le criptovalute eccetera che quindi sono principalmente scambiate anche tra giovani investitori giovani diciamo appunto i ragazzi della generazione della nuova generazione quindi anche secondo me c'è questa appunto questa propensione relativamente maggiore agli investimenti semplicemente perché magari se prima investire era visto come andare necessariamente ad esempio da un intermediario finanziario chiedere una consulenza e farlo quindi per accedere ai mercati finanziari dovevi necessariamente andare ad esempio in banca e diciamo attraverso la banca investire. Attualmente i giovani che crescono con degli smartphone, dei computer quindi da quando siamo piccoli fondamentalmente, ci rendiamo conto che grazie a un'applicazione possiamo investire in qualsiasi titolo, a qualsiasi ora della giornata, in qualsiasi cifra che vogliamo quindi chiaramente per quello secondo me i giovani hanno la possibilità di interfacciarsi col mondo della finanza senza troppe barriere soprattutto grazie diciamo appunto a queste nuove tecnologie chiaramente questo da un lato è buono perché avvicina le persone al mondo della finanza dall'altro comunque comporta grandi rischi perché chiaramente se non si conosce ciò in cui si può investire o comunque se non si conosce in generale magari come funziona l'economia, cosa stai effettivamente comprando che è un rischio molto alto soprattutto nei ragazzi giovani che magari non hanno avuto tempo in modo di studiare le basi soprattutto dell'economia della finanza diciamo bisogna lavorare anche sotto questo punto di vista quindi aumentare il livello di educazione finanziaria anche e soprattutto tra i più giovani che appunto hanno questa propensione propensione relativamente superiore ad investire chiaramente comporta anche e dettata anche da un'avversione a rischio relativamente più bassa rispetto magari alle persone della generazione precedente che chiaramente vedevano gli investimenti solo esclusivamente come una appunto una materia per pochi da affidare insomma che aveva diverse barriere all'entrata ok ok infatti alcuno qualcuno definisce dopo c'è una domanda di un amico che voglio voglio leggerti l'illusione della liquidità che un'espressione che a me piace molto perché appunto si pensa che non investire equivalga non rischiare no cioè su questi due aspetti e che che sono quelli che stiamo analizzando noi perché l'illusione della liquidità perché appunto ma questo lo facciamo tutti ma parlo anche per me voglio dire no è inutile girarci intorno più vediamo che il nostro corrente aumenta e più diciamo sono tranquilla sì da un certo punto di vista è vero per carità è anche bello vedere il conto corrente che aumenta però nello stesso tempo poi ci sono tutti i rischi che abbiamo elencato e che hai elencato tu Alessandro cioè anzi a volte è proprio più rischioso non investire poi mi rendo conto e dimmi se credo che anche tu lo pensi che non è che tutti possono investire parliamoci chiaramente c'è anche chi non ha la possibilità di farlo noi ovviamente stiamo dicendo in linea generale che qualora ci ci fosse un po di liquidità è bene pensare di investire una parte di essa no questo è un po ragionamento complessivo che si può fare e poi ti leggo anche la domanda che fa al nostro amico assolutamente sì concordo completamente tutto perché chiaramente in economia bisogna fare una distinzione fondamentale soprattutto cioè quando si insessore dell'economia si fa sempre soprattutto in macroeconomia una distinzione fondamentale tra le variabili nominali e le variabili reali nel senso che chiaramente possiamo vedere il nostro conto corrente aumentare ad esempio non so partiamo da un capitale di 20 mila euro e passiamo non so a 21 mila euro in un anno quindi vediamo questo mille euro in più e pensiamo ok sono sono più ricco relativamente più ricco rispetto a prima chiaramente se però questo mille euro che appunto questa cifra che è aumentata togliamo il valore reale della della moneta quindi se andiamo a calcolare quanto effettivamente è il rendimento reale che c'è stato in un anno magari con un'inflazione come che quella che c'è in quest'anno quindi superiore anche all'8 per cento negli stati uniti eccetera diciamo cifre che non si vedevano da parecchio tempo chiaramente quei mille euro non coprono assolutamente il rendimento che avresti potuto avere se avessi investito magari in un'obbligazione che ti copre dal rischio dell'inflazione sono tantissimi tipi di obbligazioni governative in italia e btp italia che sono indicizzate all'inflazione negli stati uniti i tips treasury inflation protected securities che appunto replicano in qualche modo in maniera anticiclica l'andamento dell'inflazione quindi ti coprono per questo è vero soffriamo di illusione monetaria questo tutti perché chiaramente siamo è una parte comportamentale che è difficile da controllare però appunto sta a noi definire in anticipo quindi se vogliamo essere afflitti in maniera consapevole da questa illusione monetaria oppure effettivamente farci due conti in tasca dire ok magari questi mille euro sono in più rispetto ai 20 mila che avevo prima però chiaramente sono relativamente di meno rispetto a quelli che avrei avuto se avessi investito e comunque calcolando appunto tenendo in considerazione il valore reale quindi al netto dell'inflazione potenzialmente ho potuto anche perdere soldi nonostante questa illusione monetaria mi porta a pensare certo questa è una bella espressione da tenere sempre ben a mente illusione appunto della liquidità illusione monetaria perché apre tutte queste riflessioni allora ovviamente la liquidità avere liquidità significa avere a disposizione dei soldi immediatamente no quindi questo questo è importante Alberto ci scrive mantenere liquidità significa lasciare soldi su un conto corrente o su qualche altro strumento certo non sotto il materasso Alessandro esattamente sotto il materasso mi sa proprio di no liquidità in realtà anche qui ci sono parecchie definizioni economia però tendenzialmente quello che viene visto come liquidità è mantenere i soldi depositati su un conto corrente esatto quindi se già abbiamo la possibilità di depositarli in diciamo in altri tipi di asset qualsiasi siano chiaramente in base al rischio che ogni persona ha chiaramente ognuno ha una versione rischio differente una strategia di investimento differente e dei tempi soprattutto un orizzonte temporale differente chiaramente si può avere liquidità anche investendo ad esempio in un'obbligazione e rivendendola nel momento in cui bisogna di liquidità come dicevo prima soprattutto nell'ultimo periodo abbiamo la possibilità di accedere ai mercati quasi dappertutto grazie magari anche dei servizi offerti da broker che danno la possibilità appunto di disinvestire in qualsiasi momento quindi in realtà attualmente considerate tutte le caratteristiche del mercato l'accesso che abbiamo ai mercati finanziari mantenere esclusivamente liquidità sul proprio conto corrente equivale a mantenerla sotto il materasso e quindi a questo punto è tecnicamente economicamente un errore con un'inflazione crescente assolutamente valore tende a decrescere assolutamente quello che diciamo poi attenzione anche qui visto che parliamo proprio di educazione finanziaria ci sono ruoli e ruoli all'interno della finanza chiaramente i concetti io e Alessandro li possiamo spiegare però poi quando bisogna decidere come investire i nostri soldi ci sono i consulenti finanziari quindi ripeto questo è uno spazio non a caso ci siamo io che sono una giornalista Alessandro che è un influencer e studente di economia eccetera eccetera quindi i concetti ci sono però poi chiaramente nell'atto pratico bisogna rivolgersi ad altre figure professionali che siano riconosciute mi raccomando perché questo è un'altra è un'altra insomma un altro gancio fondamentale il fai da te il fai da te almeno io non sono per il fai da te se non per piccole cose non funziona mai allora l'altro argomento che vorrei trattare con te insomma poi magari ci torneremo perché questo è relativamente insomma è relativo al rialzo dei tassi di cui abbiamo parlato insomma adesso si sta guardando molto a quello che stanno facendo le banche centrali no la curva dei rendimenti inflazione curva dei rendimenti intanto poi arriviamo alla domanda cioè se quello che sta succedendo sta anticipando dei segnali di recessione prima partiamo col dire Alessandro perché è importante la curva dei rendimenti no perché ovviamente ci dice molto basicamente se i tassi di interesse saliranno scenderanno perché è molto importante monitorarla è molto importante monitorarla perché la curva dei rendimenti riflette in qualche modo le aspettative degli investitori nel medio e soprattutto nel lungo periodo questo chiaramente è dato al fatto che la curva dei rendimenti per definizione è calcolata come appunto può essere calcolata o come differenziale tra i tassi tra i rendimenti sulle obbligazioni a lungo termine solitamente si prendono come riferimento quelle a 10 anni tra i giudizi americani a 10 anni rispetto a quelle a breve termine a due anni o tre mesi se vogliamo ancora più breve termine e quindi chiaramente in teoria quando un'obbligazione ha una scadenza più diciamo più lontana dovrebbe per definizione avere un tasso di interesse più elevato perché chiaramente ha per definizione un rischio più elevato quindi deve pagare di più mentre un'obbligazione che ha una scadenza o una vita residua più più corta ad esempio quella a due anni dovrebbe pagare un tasso interesse un rendimento più più basso perché appunto il rischio relativamente più basso quindi si prende in considerazione questa differenza tra i tassi di rendimento perché perché chiaramente come c'è prima in qualche modo fa capire come gli investitori si aspettano che aggirando le banche centrali in un futuro appunto può anticipare una potenziale politica monetaria restrittiva se gli investitori si aspettano un appunto un periodo di espansione economica quindi si aspettano che tassi di interesse aumenteranno quindi i tassi a lungo dovrebbero aumentare la cosa importante è che questa curva nella storia economica ci ha insegnato che quando succede qualcosa di strano ovvero quando questa curva si inverte ovvero quando la differenza tra i tassi di interesse a lungo termine rispetto a quelle meno a più a breve termine è negativa sia una cosa che non dovrebbe succedere questo storicamente ha sempre anticipato una fase recessiva nell'economia più o meno di circa 12 mesi ovvero quando c'è una inversione di questa curva quindi la differenza tra questi tassi di rendimento a lungo a breve termine è negativa tendenzialmente si può vedere una diciamo una recessione nei 12 mesi successivi ecco appunto volevo proprio arrivare lì no prego prego questo è importante è molto importante infatti soprattutto diciamo nell'ultimo periodo si sta tenendo molto d'occhio perché c'è stata una piccola una piccola inversione in realtà per pochissimo tempo però è successo a inizio aprile quindi i mercati diciamo in qualche modo sono iniziati ad essere abbastanza agitati ecco perché appunto c'è stata un'inversione in realtà nella differenza tra i rendimenti sui tre studi a dieci anni rispetto a quelli a due anni anche se parecchi studi in realtà considerano la vera e propria curva di rendimenti come diciamo anticipatore di potenziali recessioni il differenziale tra la curva tra il rendimento a dieci anni e quello a tre mesi che è più a breve termine però chiaramente questo riflette ci potrebbe essere una recessione dipende dipende da tanti altri fattori chiaramente questo però è sinonimo di una forte tensione finanziaria che stiamo vivendo adesso che probabilmente vivremo soprattutto nei prossimi anni quindi bisogna stare molto attenti e sperare soprattutto che la storia non si ripeta anche se si è ripetuta diciamo finora. Ecco diciamo che poi il timore è legato proprio alle mosse e poi chiudiamo però anche questo per permettere un po' tutti i vari attori e i vari elementi insieme nel pacchetto del periodo dello scenario che stiamo vivendo cioè il timore è legato proprio alla mossa alle mosse delle banche centrali in questo caso della fed perché abbiamo il combinato tra la curva dei rendimenti e le aspettative di inflazione in america ci segnalerebbe che appunto che peraltro è c'è stato anche comunicato che la fed andrebbe più veloce rispetto agli aggiustamenti di politica monetaria ci allenterebbe sostanzialmente gli aiuti che ha dato fino a questo momento al mercato e quindi questo cosa porta porta a pensare a un rallentamento dell'economia perché non ci sono più gli aiuti non c'è più la benzina no che arriverebbe dalla fed e di conseguenza visto che in questo momento ci sono tante incognite a una recessione in vista no ecco questo è un po il timore del momento esatto purtroppo il timore appunto lo spettro della stagna della stagflazione che stagflazione stagnazione assolutamente sì sì no no ma sono tutti collegati insomma perché poi se c'è inflazione alta crescita pari allo zero appunto stagflazione è un attimo arrivare alla stagnazione c'è tutto fermo no esattamente il rischio è proprio quello quindi attualmente ciò che stiamo vivendo la preoccupazione principale è quella di rivivere più o meno ciò che è successo negli anni 70 in cui c'erano appunto c'era un'elevata inflazione ed era molto difficile combatterla e il rischio appunto quello di trovarci in un periodo di alta inflazione e bassa crescita economica addirittura recessione quindi stagflazione appunto qui il ruolo delle banche centrali è fondamentale perché ciò che abbiamo imparato in qualche modo agli anni 70 che le banche centrali soprattutto in periodi in cui l'inflazione dipende dal fattore legato all'offerta ha principalmente due obiettivi il primo è quello di controllare in qualche modo ancorare l'aspettativa di inflazione per farlo deve avere una strategia chiara di forward guidance quindi dire cosa farà rispetto ai tassi di interesse non necessariamente attuali ma futuri diciamo nel prossimo breve e medio periodo quindi assicurare il mercato che farà determinate mosse la seconda chiaramente è appunto che l'interesse reale deve essere in qualche modo positivo per gli investitori perché chiaramente ciò che in qualche modo spinge le persone investire a fare le proprie scelte di portafoglio ma anche di consumo che sono appunto potrebbero essere anche complementari o alternative dipende dal tasso di interesse reale che appunto è dato dalla differenza tra il tasso di interesse nominale che è influenzato alle banche centrali e l'inflazione quindi chiaramente se le banche centrali non fanno un buon lavoro in termini di forward guidance quindi se non riescono a in qualche modo ancorare l'aspettativa di inflazione che sono il motore principale ricordiamo l'inflazione soprattutto nel medio nel medio periodo il problema è che in futuro dovranno aumentare i tassi interesse a un ritmo sempre più elevato rispetto a quello di inflazioni chiaramente questo potrebbe comportare quasi necessariamente un rallentamento significativo dell'economia quindi una potenziale recessione e questo è un mondo che speriamo di appunto di non incontrare però chiaramente la probabilità di incontrare appunto questo scenario nel prossimo futuro non è assolutamente bassa anche perché ripeto le banche centrali soprattutto ad esempio la bce non è assolutamente chiara su cosa farà nei prossimi mesi o anni esattamente non è molto facile anche chiaramente essendo nei panni della banca centrale non è facilissimo scegliere cosa fare e dichiararlo in un momento del genere in cui c'è una tensione sotto tantissimi punti di vista quindi è chiaro che un periodo molto delicato però appunto in vista di politica economica e monetaria sarebbe ottimale se le banche centrali facessero questo ok allora seguite alessandro cascavilla sui social instagram ma non solo dove si definisce un giovane quasi economista che parla di economia ma insomma ne parla molto bene appunto poi figuriamoci quando sarai economista fondatore di economia del suicidio c'è anche la pagina su instagram economia del suicidio quindi potete seguirle entrambe e insomma ci sono veramente tanti post interessanti che anche io seguo ogni giorno quindi vi aspetta sui social naturalmente grazie per per essere stato con me oggi alessandro e a presto grazie sulle fonti tv grazie buona giornata a presto ciao ciao grazie a tutti